L'imboccatura è uno degli aspetti più complessi del saxofonista. Vi è infatti oggi un fiorente mercato di imboccature artigianali, industriali o vintage. L'imboccatura è un supporto per l'ancia, della quale incanala la vibrazione all'interno del saxofono, alterandola in vari modi. Il bocchino si compone di un corpo, un innesto, la parte che si infila nel collo, una tavola, appoggio per la tavola del lancia, una camera, sezione in cui l'aria prima di entrare nello strumento si rimescola ed amplifica, una finestra, parte vuota in linea con la tavola e suo ideale proseguimento, su cui si inserisce la parte vibrante del lancia, un deflettore, parte anteriore del bocchino, da cui dipende la maggior parte del suono, una parte di collegamento fra deflettore e camera, i binari laterali della finestra ed il loro interno ed il bordo della punta, quello che è in corrispondenza della punta del lancia e rivolto all'interno della nostra bocca. La variazione combinata di tutte queste componenti influisce su tutti gli aspetti sonori, risposta, dinamica, flessibilità, timbro chiaro o scuro, estensione e tanti altri aspetti. In generale, i bocchini dal suono scuro possono presentare camere larghe, che permettono all'aria vibrante di rimescolarsi a sufficienza prima di entrare nello strumento, binari spessi e concavi, che concorrono allo stesso proposito, grande lunghezza nella parte di stacco fra bocchino ed lancia, nella sezione compresa fra la punta e la tavola, il cosiddetto facing, poiché infatti, al vibrare di una lunga porzione di ancia, il suono tende a diventare più legato e più scuro, e deflettori e pareti poco inclinati rispetto al piano dell'ancia. Bocchini dalla sonorità chiara e brillante avranno invece caratteristiche opposte. Camere strette, deflettori e pareti di inclinazioni più spinte, aspetti rispetto al caso precedente, per i quali l'aria non ha il tempo di rimescolarsi o di eliminare alcune asperità, e viene quindi sparata all'interno del sax. Binari dritti e mancanti di concavità e facing medio o corto, ovvero vibra solamente la parte più corta e sottile dell'ancia, la punta, responsabile della brillantezza. Il design interno, equilibrio delle precedenti caratteristiche, è ciò che maggiormente influisce sulla sonorità dell'imboccatura. Tuttavia, anche il materiale impiegato può giocare il proprio ruolo. Ebanite, suono caldo, rotondo e flessibile. Metallo, sonorità tendenzialmente più chiara e potente. Bronzo, caldo, ricco, potente e penetrante. Ottone, sonorità calda, naturale e flessibile, un poco più brillante rispetto al bronzo. È la scelta di base per il bocchino in metallo. Altri materiali utilizzati possono essere, ad esempio, il legno, dalla sonorità calda e ricca, e, fra i metalli, il rame, caldo e con pochi armonici superiori, l'argento, dal suono caldo, limpido, centrato e definito, che sviluppa le armoniche medio-acute, e l'acciaio, dal suono molto chiaro e potente. Altri materiali utilizzati possono essere, ad esempio,